Come una partita, giocare contro il Chievo sembra una partita semplice, la realtà è una squadra che ha già la sua identità da tempo, anzi quest'anno ancora di più dell'anno precedente perché l'anno scorso 4-5 cambi nella squadra a base l'avevano fatti, quest'anno sono arrivati con quasi tutti i giocatori confermati e perciò era molto difficile e soprattutto è stato difficile nei momenti dove il Parma poteva approfittarne che è stato dopo il gol e invece loro hanno continuato ad avere lo stesso atteggiamento, loro non hanno cambiato nulla, non ci hanno dato spazi, cioè la partita era molto complicata, una partita non bella ma efficace diciamo così. L'anno scorso, due anni fa, all'inizio stagione, una partita con i gradieri sicuramente non avranno vinta, sei d'accordo? Posso essere d'accordo anche se chiaramente come ho detto prima sui episodi che la fanno una padrona, perciò io sono altresì convinto che per esempio se non danno il gol di Vipirlo non la partita la c'erano fino in fondo, sono convinto di quello. L'aspetto che ha cambiato per quanto mi riguarda e che sono d'accordo con te è quello che diceva anche Gerry è la voglia di giocare, che porta anche a degli errori, perché se voi andate a vedere le azioni più pericolose da parte dei o vengono dall'esasperazione di cercare di giocare palla e di non buttarla.